Mi sembra che ci sia una volontà del territorio univoca contro l'installazione in questo territorio molto particolare dove c'è la diga che rifornisce acqua a tutta la provincia di Foggia, arriva anche l'agricoltura quasi nella Bat, è un territorio che è ancora pulito, non ci sono installazioni di questo tipo, l'attenzione dei sindaci del territorio contro questa installazione è importante. La regione ha fatto un piccolo diniego a questo insediamento, cercheremo di seguire la questione anche a Roma perché non c'è la volontà del territorio in questo insediamento, questi territori gli insediamenti che devono essere sono di altra natura perché sono territori altamente spopolati dove c'è necessità di interventi sulla sanità, sul turismo, su altre questioni e non su un bene che verrebbe. Depredato in maniera assoluta, quindi noi siamo assolutamente al fianco dell'amministrazione locale e siamo attenti a questo territorio. Con i secchi e con i masi vedrà quello che succede, insomma. Al momento la situazione è questa, bisognerà far arrivare anche a Roma e l'eco di questa manifestazione che sarà fondamentale. Ma che bisogna un attimino verificare cosa ha dato il territorio pugliese. Sappiamo che la regione Puglia è il territorio più utilizzato per il fotovoltaico e anche per l'eolico di Europa. Per cui bisogna anche verificare un attimino se le situazioni da Polinesse siano giuste e giustificabili. Oggi qui c'è una protesta, sono riuniti tutti i cittadini insieme agli amministratori e sono venuto qui ad ascoltare un pochettino per capire un po' i vari punti di vista delle parti.